È scomparso improvvisamente il 12 settembre di quest'anno, dopo una vita di responsabilità professionale e impegno civico a sostegno dei più deboli. A lui si deve in gran parte la rinascita del Wall Street, il locale sequestrato all'Andrangheta diventato pizzeria della legalità. Con il Celima ha partecipato a missioni in Africa e poi la sua attività senza sosta come referente dell'Associazione Libera di Lecco. Paolo Cereda resterà sempre nella memoria di questa città e ora il ricordo diventa impegno concreto con un premio a lui intitolato. Un concorso di scrittura creativa, segni e parole per la legalità, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Coinvolto l'intero gruppo classe è chiamato ad elaborare un testo della lunghezza massima di 10 cartelle. I docenti che intendano far partecipare alla loro classe potranno iscriversi inviando una mail entro il 9 febbraio all'indirizzo concorso.libera.lecco.gmail.com L'elaborato dovrà poi essere presentato entro il 17 aprile. Premiate con 1000 euro ciascuna le prime 5 classi. Il concorso è promosso dal coordinamento di Lecco dell'Associazione Libera, dalla Fondazione Comunitaria dell'Ecchese e dall'Ufficio Scolastico Provinciale. Per continuare a far vivere il sogno di Paolo e di tanti altri, spiegano gli organizzatori, e per continuare a far vivere la pizzeria Fiore è necessario ribustire la consapevolezza del valore del progetto. Ecco perché il premio, ricordo di Paolo Cereda, è rivolto alle nuove generazioni, proprio a quegli studenti che lui aveva incontrato nelle scuole e sul territorio, promuovendo la partecipazione democratica, la responsabilità sociale, i valori della legalità, della pace e della giustizia.